Bene signori e signori, si riprende da dove avevamo finito una delle ginkane più entusiasmanti e divertenti del 2014 Si trasforma nell'unica ginkana in programma per questo campionato ginkane automobilistiche 2015 Siamo arrivati, manca pochissimo, le macchine sono in preparazione, gli sponsor esaltati, la città pronta Il 30 agosto se vicino noi siamo sempre più contenti per questa che sarà la gara rivelazione del campionato Noi vi aspettiamo, start ore 9, Ostuni, zona mercatale